Eccoci qua, un altro video proprio, pressione a termina, comunque anche il Napoli ha vinto 1 a 0, ma diciamo che alla fine se l'è giocata, il Napoli ha vinto 1 a 0, la Fiorentina pure, sta cazzo riduce, la Fiorentina pure accorgesse una sbavatura, due, tre, quattro contati, alla fine riuscì a prendere un gol della Madonna, ma come cazzo si fa? La Fiorentina è stata, diciamo, ottimale, imbeccabile quasi, il Napoli ha creato, il Napoli sulla carta è 3.000 volte più forte, il Fiorentina pure come cazzo si fa? E' che rara volta, porca puttana ha segnato la Sampdoria, vaffanculo, che cazzo, come cazzo si fa? Con questo cazzo di Frosinone sta perdendo in casa pure qui, diciamo che oggi, popolo, la partita è andata un andamento boreale, un andamento nel baratro di prima categoria, come cazzo si fa? Non è andata la Madonna, è stata da su, gli stava, non è andata solo avvenenata, queste partite da merda che, praticamente, non lascia né insegna, né capo né fine. Noi cazzo si fa? I primi gol, qua, la Quagliarella siamo pigliati, pure, guarda il Napoli, il Napoli è direttamente superiore, no? Noi cazzo, la Fiorentina ha sbagliato, ma la Fiorentina è un gioco qui, non si può permettere, con il Napoli e il Juventus, la Roma, il Milan, la Lazio, l'Inter, tutte le squadre che lottano per lo Scudetto, cambiscono, anche alla Champions non si può permettere di fare le cazzate, se no la Fiorentina rischia di lottare per l'Europa League, non si può permettere altri cali di tensione, comunque, non sapete che cazzo ne pensate, ci vediamo il prossimo video, il Napoli pure in grande spolto per tutti i quali, alla fine, giocava un'ottima partita come al solito, sempre possesso palla, adesso, inizio, sbilanciamenti, Comunque, il Napoli ha meritato e continuerà a primeggiare anche i Renzi, il Malai, il Juventus, la Roma, il Milan, l'Inter, tutte le squadre che lottano per ambire al Vergine, comunque, che cazzo, pensate, quando finisce la partita a Frocivone, faremo un'altra ancora, voi, 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 iscrivetevi sempre a sto cazzo di canale!